Musica Ben trovati a questo speciale di Reni Contiamo le Marche in cui ci occupiamo in questa occasione del punto nascita dell'ospedale Profili di Fabriano una realtà che da anni è a rischio chiusura ma una realtà assolutamente importante e strategica per il territorio ne parliamo con il nostro ospite, il Presidente della Regione Luca Ceriscioli benvenuto Presidente, grazie di essere qui grazie a voi per parlare come dicevo di una realtà che è strategica per il territorio chi conosce le Marche, chi conosce un po' la zona di Fabriano non avrebbe neppure bisogno di sentirselo dire ma quant'è importante innanzitutto questo punto nascita per quel territorio? Per noi prima di tutto è importante tutto l'ospedale perché ogni tanto si sente dire oddio cosa succederà all'ospedale e nel punto di riferimento per l'area interna sta dentro una strategia più complessiva di rilancio dell'area interna è un ospedale che presto avrà un investimento in una nuova ala proprio per garantire antisismicità e una risposta di qualità quindi una struttura sulla quale si continua ad investire dove abbiamo resistito rispetto alle regole sul punto nascita un punto nascita che non ha le caratteristiche previste dalla legge per essere mantenuto ma sul quale abbiamo chiesto tempo fa una deroga e nel frattempo mantenendo intatti i servizi la doccia fredda di qualche mese fa quando c'è stato risposto dicendo che sostanzialmente dobbiamo chiuderlo e abbiamo scritto allora al ministro aspettiamo una risposta al ministro basta veramente un cenno che riapre noi continueremo come abbiamo fatto fino a ieri a mantenere il punto nascita a mantenere l'ospedale a continuare ad investire in quella struttura serve questo piccolato di volontà perché altrimenti il percorso diventerebbe un altro per far capire il percorso che ha portato a questo momento oggi ricordiamo un po' quello che è successo nel 2015 arriva la notizia che poiché non si raggiungeva nei mille parti l'anno il punto nascita doveva essere chiuso in quell'occasione la regione concesso una deroga in effetti abbassando il limite a 500 parti neppure quel limite purtroppo venne raggiunto ci fu un altro passo importante la collaborazione tra l'ospedale Profili, il Salesi e gli ospedali riuniti di Ancona fino ad oggi la situazione è andata avanti ora appunto la situazione che ci ha descritto il futuro a questo punto dal suo punto di vista com'è? insomma che cosa dobbiamo aspettarci? si è andata avanti anche con soddisfazione da parte di tutti con qualità quindi non ci sarebbero dei motivi chiamiamoli materiali ma ci sono dei motivi importanti rispetto di quel parametro al momento in cui non viene concessa la deroga mette in discussione quello che è il raggiungimento dei LEA non raggiungere una regione come la nostra che è una regione virtuosa quindi che partecipa a delle premialità importanti siamo talmente abituati a quella premialità che ormai è un pezzo del nostro budget è un valore di circa 70 milioni di euro cioè parliamo di cifre assolutamente significative e non possiamo perdere quella risorsa in violazione dei LEA ecco perché abbiamo bisogno senza meno della deroga non vogliamo mettere in rischio la nostra virtuosità non vogliamo buttare via soldi che sarebbero soldi per la salute dei marchigiani i fondi che vanno verso la sanità possono essere spesi solo in sanità quindi sono 70 milioni che si traducono sono direttamente in servizio basta un cenno basta che il Ministro risponda alla lettera dicendo che la mia intenzione è riaprire la procedura rivedere la cosa noi saremo a posto nel confronto del rispetto del percorso LEA metteremo in sicurezza i 70 milioni che li giocheremo su quel tavolo come facciamo tutti gli anni sfidando con la qualità della sanità regionale le altre italiane sono ormai non so quanti anni che siamo nelle prime tre e questo ci ha garantito veramente tante risorse vogliamo continuare a stare a quel tavolo basta veramente un cenno per me è francamente inspiegabile siamo in area sisma siamo in una comune che ha avuto già tante difficoltà c'è una regione che ci scommette e ci crede abbiamo fatto di nuovo tutti i concorsi perché sappiamo quanto è difficile trovare in Italia alcune figure mediche per problemi di natura più generale diciamo proprio strutturali in modo particolare i pediatri così come gli anestesisti così come i radiologi ci sono tante le figure che vengono a mancare presto mancheranno i medici perché il numero chiuso non ha tenuto conto delle vere necessità con il rischio di andare a prendere i medici in altri paesi per non aver permesso a tanti giovani che hanno voglia di fare medico in Italia di entrare nell'università è una battaglia anche questa ormai arrivata al limite del sostenibile con tutto quello che comporta questo percorso questa scelta noi faremo tutto continuiamo a fare tutto ma abbiamo bisogno di questo piccolo segno è un po' un paradosso che a distanza di mesi non si è arrivata a nessuna risposta e appunto in una situazione del genere a me bastava già area sisma cioè il fatto che sia dentro il cratere forse era sufficiente quello per dire fermi tutti almeno da parte del ministro visto che i tecnici hanno proseguito nel loro cammino diciamo forse in un momento di passaggio quindi un po' su indicazioni puramente chiamiamole formali serve un atto politico è quello che abbiamo detto e io mi aspetto che il sindaco scusate che il sindaco un lapsus perché essendo della stessa compagine politica potremmo aspettarci visto che il comune credo ci tenga non poco almeno quanto noi se non di più al punto nascita un moto nei confronti della parte politica nazionale chiedendo sensibilità attenzione per quella parte del territorio per quella struttura sanitaria basta veramente una risposta del ministro che dica mia intenzione è rivedere questa valutazione fermiamo la procedura che dice che dobbiamo chiudere il punto nascita il suo lapsus mi chiama alla prossima domanda perché proprio qualche giorno fa sono uscite delle dichiarazioni sulla stampa del sindaco di Fabriano che dice che il punto il parere negativo non è in effetti però del ministero ma della struttura tecnica ministeriale e la regione avrebbe la possibilità di derogare di sua spontanea iniziativa leggo gestualmente come risponde quello l'errore dice la regione può mantenere aperto però poi non partecipa alla premierità questo manca ci sarebbero anche altri aspetti molto delicati sotto il profilo delle responsabilità perché quando tu poi non sei dentro una deroga ti dice ma perché stai continuando a fare il primo caso che può succedere dappertutto non andrebbe poi letto in una normale logica andando a verificare se effettivamente le cose sono state fatte come sono state fatte ma uno si appellerebbe diciamo ma non avate neanche la deroga perché avete continuato allora serve veramente questo atto politico molto semplice noi non possiamo senza quello andare avanti non possiamo mettere a rischio 70 milioni per la sanità della nostra regione ecco lei il presidente faceva riferimento appunto a questi speriamo non capitino mai incidenti perché effettivamente mille parti all'anno sono stati fissati all'organizzazione mondiale per la sanità perché il limite è considerato per dare una sicurezza ai parti alle madri ai bambini lei fa riferimento a questo e appunto assumersi responsabilità di una deroga porterebbe insomma conseguenze a cascata la deroga è possibile a mio giudizio per quello che dicevamo prima farla in assenza aprirebbe un bonus poi difficilmente sostenibile di fronte a qualunque giudice che carte alla mano non farebbe altri ragionamenti mentre come dicevo ci sono tutte le motivazioni varie per avere noi credo che noi saremo titolati a vedere concessa la deroga ma in questo momento ci accontenteremo di meno semplicemente che venga riaperta quella procedura basta veramente poco basta un impegno minimo una risposta del ministro noi garantiremo l'impegno della regione come ho detto prima continuiamo a dare i servizi continueremo a portare avanti i bandi di concorso a tempo indeterminato per l'assunzione dei pediatri o delle figure che mancano in questa struttura come in altre e tutto quello che serve per poter farlo da nostra parte non c'è da parte della regione la minima volontà a non continuare in questo impegno ma dobbiamo essere messi in condizione di poterlo fare c'è qualche altro atto di pressione mi passi il termine tra virgolette che avete intenzione di fare sul ministero in chiusura noi più in generale devo dire nei confronti del governo un po' su tutto il quadro perché a oggi malgrado su diversi temi abbiamo fatto delle sollecitazioni ma quasi sempre legato a problemi di carattere chiamiamoli territoriale cioè penso la richiesta molto importante che riguarda il futuro della scuola di San Ginesio chiedendo al ministro l'incontro o nel caso di quattro presidenti di regione chiedendo al premier di vederci almeno per la prima volta sul terremoto perché che non ci abbia incontrato in tutti questi mesi francamente è anche difficile da spiegare fuori da da una sede chiamiamola istituzionale anche dentro forse una sede istituzionale così come il ministro Grillo noi ci aspettiamo le risposte è importante che a quello che sono le interlocuzioni che la regione chiede possa arrivare una risposta al ministro Di Maio ne avevano chieste due una quella di Whirlpool a distanza di un po' di mesi il tavolo è stato convocato saremo presenti c'è stato un bel coordinamento di comunanza con il territorio con i sindaci con i sindacati andremo parlando un linguaggio solo regione ed altri soggetti mentre sulla GP che è un'azienda che insiste proprio sul territorio di Fabriano ancora non c'è stata una risposta lettera congiunta di due presidenti di regione Umbria Marche ci aspetteremo dal governo che su questo tema e su altri temi facesse sentire la sua voce dicesse la sua opinione e sono convinto che per la bontà delle questioni che portiamo non può che rispondere positivamente al mantenimento del punto nascita piuttosto che nel cercare una strada per salvare i lavoratori del GP piuttosto che per trovare modi più efficaci per rispondere ai bisogni della popolazione colpita dal terremoto i tempi sono stretti perché appunto si parla di fine anno quindi presidente buon lavoro e teniamo le dita incrociate a questo assolutamente sì grazie presidente grazie a voi che ci avete seguito da casa e buon proseguimento di serata grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi